Partono da qui dal seggio elettorale allestito presso l'ospedale San Donato di Arezzo i team sanitari costituiti da medici ed infermieri che raggiungeranno i pazienti positivi. In Toscana sono oltre 82 mila i pazienti attualmente positivi, qui siamo ad Arezzo, le squadre, composte da un medico e due infermieri, raggiungeranno i pazienti al loro domicilio. Al momento sono due squadre per Arezzo, Capolona, Subbiano e per gli ospedali. Ci sono altre squadre in altri territori, tipo il Casentino, la propria squadra. Di fatto è un seggio elettorale a tutti gli effetti. Il medico e due infermieri sono rispettivamente stati nominati presidente di seggio, segretario e scrutatore. I sanitari indossano prima di raggiungere la persona positiva i dispositivi di protezione individuale e a quel punto si può svolgere la votazione. Un medico e due infermieri si recono a domicilio del paziente Covid, che è in isolamento e non può uscire. Gli viene fornita la scheda elettorale, vengono fatti controlli della carta di identità, dei documenti e gli viene permesso il diritto di votare con la privacy in autonomia. Questa procedura è stata organizzata in questo modo perché ovviamente a casa di un positivo non può andare un rappresentante di un ufficio elettorale, cioè deve andare il personale sanitario. Sì, c'è sempre il problema del fatto che il Covid è contagioso, quindi serve una preparazione nella vestizione e svestizione e le precauzioni particolari da tenere a casa del paziente perché è un momento in cui è più probabile infettarsi. Un meccanismo dunque complicato, ma Arezzo in questo senso ha fatto la differenza con un'organizzazione che non è così scontata per quello che concerne il voto a chi è positivo al Covid. Non sembra invece esserci soluzione per ovviare a quello che potrebbe essere un vuoto normativo e che alcuni cittadini ci hanno segnalato. Facciamo un esempio dove il familiare convivente di una persona con grave disabilità è l'elettore. Se nelle ore precedenti al voto la condizione di salute del disabile peggiora e non consente l'allontanamento dal domicilio del familiare convivente o non ci sono le condizioni per affidarlo ad altre insicurezza, in questo caso l'elettore non ha più i tempi tecnici per richiedere al proprio ufficio elettorale il seggio a domicilio. La scadenza del 21 settembre, come data entro la quale effettuare questa richiesta, è derogabile solo per i casi di positività al Covid.